Ora si esplora. La scorsa volta abbiamo fatto molte chiacchiere e poco gameplay, ma adesso abbiamo un nuovo obiettivo preciso con il quale andare avanti. Vogliamo trovare il grafo pugnale di cui ci è dato l'ubicazione FIA e ipotizzo che sia a sud di Sepolcride, quindi oggi esploriamo quell'area. Non so quanto ci metteremo a esplorare questo luogo qua, non ho idea di quanto sia grande la penisola del pianto, ma il nostro primo obiettivo sarà di sicuro quello di trovare la mappa, perché senza mappa posso fare poco. Tra l'altro qua ho pure messo due segnali un sacco di tempo fa perché ho visto delle cose strane da distante. Qua ipotizzo che sia il luogo, ecco qua, questo, quindi poi bisognerà pure cercare questo dipinto profezia. L'altro non mi ricordo, forse è una pianta strana che ho visto da distante, forse è una cosa di nuovo, non ne ho un'idea precisa. Però, andiamo avanti con la strada principale. Qua c'è un NPC subito. E io che volevo esplorare, non parlare, ogni volta compare qualcuno di nuovo. Salve, tu chi sei? Sei bendata e sei vestita come un profeta. Hai anche te degli incantesmi? Ok, il castello di Morn. Non so se abbiamo già sentito Morn. Foglia? Foglia? Certo. Mi viene anche da pensare comunque questa follia, follia, non sia una vera e propria follia, sia più che altro un... La potenza e l'albero madre della grazia prendeva il controllo della mente di ogni singolo essere, quindi prometteva ad avere anche intelletto alle bestie, a vari esseri che solitamente nel nostro mondo non sono intelligenti, ma forse prendeva anche il controllo di tutti gli esseri umani e gli spingeva a fare delle cose specifiche. E la follia non è veramente follia, è più che altro un tornare ad avere indipendenza e poter fare quello che vuoi senza essere sotto il controllo dell'albero madre. Non ho nulla su cui pensarlo, ma mi era venuto in mente, quindi lo condivido. Consiglio la lettera. Grazie, carina. E poi, per favore, prendi questa. Lettera di Irina. Scusa, non volevo saltare. Ok, quindi questa qua è la lettera di Irina che dobbiamo portare al padre. Lettera indirizzata al comandante del castello di Morn. Prezioso fazzolezzo di seta macchiato di sangue su cui scorgono delle parole. Va bene. E mi sono pure ricordato, da bravo giocatore di Eldaring, quale è quello che sono, che ho tre simi d'oro, quindi mi devo mettere l'ampolla aggiuntiva. Ampolle, aggiungi caica. Me ne richiede due, ok, quindi ancora me ne richiede due. Per la prossima, tre. Ok. Quindi per la prossima dobbiamo trovare altri due semi d'oro. Ma adesso almeno ne abbiamo otto, quindi già quello lì è qualcosa. Mi dovrei forse anche adesso iniziare a mettere pure delle ampolle cerule, perché le ampolle cerule di sicuro possono tornare inutili. Ora come ora, visto che ho abbastanza ampolle per curarmi la vita, e presto inizierò pure a utilizzare incantesimi e altre cose del genere, ma per adesso finisco gli incantesimi e i punti abilità davvero di rado, quindi non sono di sicuro di fretta. E qua ci potrebbe benissimo essere un oggetto, perché c'è un carro. Mi andranno ad attaccare tutti? Molto probabilmente. Utilizzo le ceneri di devoto ancestrale, e vediamo se è forte con le frecce come lo era contro di me. Lui era parecchio forte con le frecce. Non vorrei che adesso, visto che è dalla mia parte, è improvvisamente debole, non riesce neanche a colpire nessuno, e non sa far nulla. Non fa troppo i danni, ma almeno riesce a colpire con le frecce, è quello che speravo. Uh, erano stati attaccati da loro? Ma dei semi umani? Schifo che fai. Ah, te sei reso conto adesso di me? Non l'avevi visto prima. Ok, buon per voi. Quindi il convoglio è stato sconfitto da loro. Ecco perché sono stati fermati. E hanno delle alucce, e una forma molto bestiale. Sono davvero strani questi qua. Va bene, quindi questo qua è il convoglio che è stato fermato. Pietra da forciatura 2. Ora comunque mi servirebbe un'altra pietra da forciatura 3. Ma prendiamo un oggetto qua dentro. Stella del mattino. È semplicemente una mazza con cui colpire. E almeno recuperiamo questo oggetto qua. Se posso. Strescia di carne bianca. Nulla di importante. Il troll per adesso secondo me lo possiamo ignorare. Perché non è aggressivo, non ci sta attaccando. Diciamo che non sono di fretta nel combattere un nemico forte per nessun vero e proprio motivo. Quindi, andiamo a prendere invece lui, che lui invece mi interessa parecchio. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua, col cavolo che scappi. Col cavolo. Colpo poteroso. Uh, è una mossa per l'arco. Castello di... Castello di Moron forse è quello collegato a... A un altro. Castello di Moron forse è quello collegato a... Ai... Ai sanguinari, quelli del sangue. Potrebbe essere. Sei un boss te oppure sei un nemico semplice. È un boss. Dovrei riuscire a battere. La scorsa volta mi bastava fare così. Oh, oh, aspetta, aspetta, aspetta. C'è un'arma più forte stavolta. Mi fa più danno al mio scudo. Beh, comunque, ora che la nostra ramba fa anche più danni, i nemici sono più gestibili, chiaramente. Forse dovevo potenziarmi l'arma prima. Non è detto, non è detto. Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Giù dal cavallo! Giù dal cavallo! Giù! Giù dal cavallo! Uuuuh, adesso la spada più sette? Più otto? Quanto c'è la spada adesso? Più sette. E non mi ha dato neanche nulla? Ah, ok. Eh, scudo barricata. Il flagello dei cavalieri notturni. Là c'è un mercante, c'è una grazia. Punto perfetto per prendersi una pausa e leggere questi oggetti qua. Abbiamo pure 7.000 rune, quindi che possiamo spenderne qualcuna. Anche per... Con questo mercante qua. Cosa mi vendite? Mi vendi... Uuuuh. Medaglione d'ambra cremesi. Incrementi pv massimi. Questo è quello che potrei prendere come dono all'inizio del gioco. La resina invecchiata dall'albero madre si trasforma in ambria. Una... Eh, aspetta, questo è importante. Una gemma pregiata dell'epoca di Godfrey, primo lord agestrale. Minchia, se è importante come amuleto. Se l'avessi avuto come dono iniziale mi avrebbe dato un sacco di informazioni. Resina invecchiata dall'albero madre si trasforma in ambria. Quindi, l'uovo d'ambra. Che ha in possesso, renala, la regina dei cariani all'accademia di Raya Lucaria. Ha un nuovo... Di ambra dell'albero madre, quindi. O fosse ricoperto di ambra, non lo so. Però cavolo, questo è importante come cosa. Comprovaso incrinato. Cosa di pietra. Eh... Gruppo di semi umani. E anche l'amuleto. Va bene, grazie anche a te, venditore. Sempre cose importanti che teniamo da loro. Però ho ottenuto... Scudo barricata. Abilità resa celebre da Ser Neidhardt. Concentro nello scudo tutta la propria energia, rendendola più resistente ai colpi per un periodo. Chi è Ser Neidhardt? È collegato a loro, forse. Mentre la mazza, flagello dei cavalieri notturni. Flagello dotato di due teste aggiuntive. Impugnato dai cavalieri notturni in sella a stalloni funerei. Provoca sanguinamento nella vittima grazie ai grossi chiodi, ma richiede grande destrezza. Attenzione, stalloni funerei mi fa comunque pensare anche alle pietre funere che possiamo utilizzare per potenziare probabilmente le armi dei boss. Quindi le pietre funere sono collegate a questi cavalieri notturni, in generale ai personaggi notturni. Potrebbe essere. Però mi è venuto anche in mente che una volta ho troppato questi, ma non so se l'avevo letto in video. Corazza dei soldati fedeli a Godric l'innestato. La sopravveste reca immagini dell'albero madre della bestia reggente. A testimonianza del suo aureo lignaggio. Entrambi sono simboli di gore passate. Quindi il leone che era sulle spalle di Godfrey nelle raffigurazioni si chiama la bestia reggente. Mentre l'albero madre, ovviamente è l'albero madre. Non è importantissimo come dettaglio, però almeno sapere che quel leone lì probabilmente si chiama bestia reggente è comunque una cosa in più che in passato non potevamo sapere. E per andare avanti la grazia ci dice andare di là. Paluardo del castello di Morne. Sarà un castello tanto grande quanto quello di Tempesta? Gran Tempesta? Non lo so, ma la mappa mi dice andare... Per la mappa devo andare avanti in questa direzione qua. Quindi per adesso continuo ad andare in questa direzione. Oh mio Dio, c'è un altro castello tanto grande quanto il castello Gran Tempesta? E non è neanche per... Sarà per una runa maggiore. Dovrà essere per una runa maggiore. Non è detto in realtà, non è per una detto. Potrebbe essere tutta una cosa opzionale. Oh! What the fuck? Ok. Per l'uso del pianto. Chi c'è là in fondo? È un... È un golem di fuoco. È un golem di fuoco. Non è difficile sconfiggere. Lo sappiamo fare. Non posso controllare la mappa perché sono in combattimento purtroppo. Se no avrei già controllato la mappa. Quindi si fa questo. Appena lui spara cambiamo direzione perché ha le frecce molto homing. Vado a prendere come prima cosa il seme dorato per aumentare le nostre cure. Tra l'altro comunque tutte queste cure qua potremmo benissimo sfruttarle e ottenerle come era del combattimento con Margit. Quindi anche se eravamo sottopotenziati e avevamo armi deboli, potevo comunque farcela con più cure chiaramente come combattimento. Ok. Attenzione. Vado a cercare di sconfiggere lui perché sta dando parecchi problemi. È diverso rispetto agli altri o no? No, è uguale. Lace l'or! Lace l'or! Lace l'or! Lace l'or! Ok, via di qua! Vai giù! Ah, sei già mezzo morto, allora è semplice. Questi qua comunque chiaramente sono indeboliti sia per gameplay, perché a questo punto qua riesci a combatterli più facilmente, ma forse anche per qualche altro motivo perché quelli in giro e tutti, certo, quelli sul ponte erano indeboliti. Il che è strano comunque perché è molto specifico come cosa. Ora posso aprire la mappa. Questa è la mappa. Vediamo qualcosa che mi può far pensare a l'indicazione di FIA. Non lo so ma è l'Australia. È l'Australia, chiaramente l'Australia questa. Sono sempre comunque delle barchette in giro. Qua c'è questo. Ok. Vediamo, c'è sì l'albero madre minore. Che comunque voglio raggiungere per ottenere delle altre anime cristallizzate. Ma sto cercando di capire quale possa essere anche la torre. Potrebbe, sì, potrebbe forse essere qua. La forma potrebbe essere di questo luogo qua, forse sì. Forse il mio istinto era corretto. Potrebbe essere tipo questo. Ah, questa è un'altra galera. Ah, questa è un'altra galera. Ma di là di certo c'è qualcosa. Ok. Non mi sembra comunque gigantesco. È grande come luogo, ma anche il castello non è tanto grande quanto quello di Gran Tempesta, eh. Ok. Prima di tutto, allora leggiamo questo perché è qua vicino. E ha sempre informazioni importanti per noi. Però questo castello è chiaramente più alto. È chiaramente più alto come... Di nuovo le meduse. Devo capire cosa sono le meduse. Devo capire che sono. Forse dovrei anche evocare la medusa per vedere se c'è qualcosa di peculiare. L'assedio del castello di Morn. Un eroe solitario lotta per la vendetta. Salvo cadere sotto i colpi di Lord Godfrey. L'assedio al castello di Morn. Questo è il castello di Morn. Un eroe solitario lotta per la vendetta. Vendetta di cosa? Salvo cadere sotto i colpi di Lord Godfrey. Quindi era un essere contro Godfrey quello che era il Lord Ancestale Godfrey. È morto qualcuno. Sono curioso delle meduse. Interagisco un secondo con loro. Se no provo ad entrare e fare i primi pass... Aspetta, là c'è una tomba. Ah no, sono delle sedie. Avete qualche informazione importante per me? Forse sì. Sono esattamente uguale alle altre comunque. Combattono nel stesso modo. Ovvero prendono colpi in faccia per la maggior parte del tempo. Nice. E? Perché le foglie capillare sono considerate così rare? Da metterle su un posto del genere. Perché? Ah, tanto nello scorso episodio avevo ottenuto le luciole d'oro. Aspetta. Mi ero dimenticato di leggere le luciole d'oro. L'uscola che mette una luce dorata. Reperibile vicino all'acqua nelle prese di alberi madre minori. E ho più una diffusa che la luce delle luciole banti poteri ammalianti. La luce dorata sembra attirarne le rune. Ok, poteri ammalianti comunque. Diverse volte è già stato utilizzato il termine comunque ammaliante. E' per questo che mi viene in mente se possibilmente... Questa è una zona di veleno. Possibilmente potrebbe essere che la luce dell'albero madre stesso fosse ammaliante e prendesse il controllo della mente delle persone. A mo' di creare tipo una hive mind che prende il controllo di tutti. Per creare appunto un vero ordine. Quando c'è un vero ordine e c'è un ordine vero e proprio tutti vanno ad amore e d'accordo. Se non quando c'è una singola entità mentale che prende il controllo della mente di tutti e gli fa andare d'accordo. Tecnicamente ha senso. Non so se questo è un mini dungeon o se è un dungeon vero e proprio. Montacarichi del castello di Morne. Mi posso trasportare fuori eh? Quindi forse non è un mini dungeon. Perché di solito appena metti piedi dentro un mini dungeon non puoi fare nient'altro che quello. Sembra una stanza di fabbricazione di armi per armare appunto i soldati. Ma per adesso non voglio entrare qua dentro perché voglio appunto cercare il grafo pugnale. E io ipotizzo che sia verso l'albero madre minore e in quella zona lì vicino. Quindi ci avviamo in quella direzione lì. Devo anche tornare comunque nelle catacombe delle vecchie zone del gioco. Perché forse adesso con l'occhio della bestia ecclesiastica Gurank potremmo forse fare qualcosa di aggiuntivo vicino a luoghi del genere. Ma non ho ancora molto tempo di controllare. Mi sicuro se adesso troviamo una catacomba. O comunque... What the fuck? Una roba del genere nel momento andiamo là? Ma che schifo sei? Sei da Bloodborne praticamente. Oh mio Dio. Mi fai follia? Che cos'era l'effetto lì? Era follia? Attenzione. Attenzione. Ma porca vacca sti cosi di merda! Io odio i minion. Odio i minion e le boss fight. Via! Via minion di merda! Ecco qua. Ora possiamo combattere. Che fastidio. Allora calmi, calmi! Uccello della morte. Te sei collegato di sicuro. Forse c'è il grafo pugnale? No, no, no. Non potrà essere. Non c'è un pugnale in mano. Hai un'assa strana. Uno, due, tre. I danni sono abbastanza buoni, eh. Non sono troppo male. Cioè stiamo cavando abbastanza bene con i danni che abbiamo per adesso. Mi ha preso oltre lo scudo. Come cazzo ha fatto? Bam! Bam! Dai danni. Dai danni. Dai danni. Aia! Aia! Utilizzo anche l'ampolla. Utilizzo anche l'ampolla. Dov'è finito? Oh, è di là. È di là. Ecco dov'è finito. Utilizzo anche l'ampolla per potenziarci danni caricati e per avere più vigore. Ok, ok, ok. Vedo poco qua, eh. Vedo poco qua. Non è la zona migliore per combattere, chiaramente. E di sicuro il lock on non ci aiuta in questo combattimento qua. Dov'è finito? È là! Ok, vai. Ok, vai. Per il potere di Grayskull! Per il potere di Grayskull! Ok, un colpo caricato ce l'abbiamo fatta. Un colpo caricato ce la facciamo. Un colpo caricato ce la facciamo. Bam! Ma vaffanculo, la non può avere un punto vita! Come on! E dai, ha davvero un punto vita e basta! Forse potevo utilizzare un... Una zampa di gallina per avere più rune. Però mi è venuta in mente tardi. Devo occupaggiamole sempre nell'inventare perché se mi stervano devo utilizzarle. Ok, un boss così a caso, va bene. Non mi aspettavo per nulla. Ascia sacrificale. È la faccia di un uccello che tiene in mano una falce gigante. Accetta impiegata in un'antico ruota sacrificale. Reca l'efficio di un rapace mortale dipinto come divinità maligna. Maliket forse è quello? Conserva ancora oggi il potere scaturito dalla cerimonia. Ripresti una ridotta quantità di Pia all'uccisione di ogni nemico. Carino. Molto interessante. È una scia... Ah, è cortissima però. È cortissima però. Sta non mi ispira per niente male come arma. Io stavo soltanto cercando di raggiungere l'albero madre minore e ci ha attaccato in un rapace mortale. Improvvisamente così a caso. Va benissimo. Comunque ci siamo cavata quindi non me ne lamento per nulla. Per fortuna la scorsa volta ho fatto l'upgrade dell'arma. Adesso ci abbiamo una spada lunga più 7 perché altrimenti non l'avremmo di sicuro fatto al primo tentativo questo combattimento qua. Ci avremmo di sicuro messo qualche try in più per vincere questa boss fight. Almeno adesso con degli equipaggiamenti che stanno iniziando ad essere decentemente potenti riusciamo a fare qualche combattimento first try. Ok, di qua mi sembra che sia stata corretta per raggiungere l'albero madre minore. Quindi continuiamo in questa direzione qua. Per adesso comunque non c'è troppa differenza nelle varie aree. Ci sono sempre gli alberi di questo colore. Di sicuro in futuro non continuerà ad essere così. Bracci già all'astra. Bracci già all'astra. Oh, oh! Perché avete gli occhi così? Oh, che cazzo è il vostro effetto? Aspetta, 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 aspetta. L'immagine è molto simile a questa. Alle uva di Shabriri. Consegnalo alla giovane cieca per guidarla verso la luce distante. Devo per caso darlo a Irina, che è la giovane cieca. E qua in giro ci sono creature con gli occhi gialli in questo modo. Bracci estratte dalla cavità oculare di un cadavere. Indica che il defunto ha sofferto gli effetti della fiamma della frenesia. Questo esemplare è maturato in forma di grappolo. La fiamma della frenesia. Ne abbiamo già sentito parlare, non mi sembra. Non mi sembra che ne abbiamo mai sentito parlare di questa fiamma. Immagino che qua in giro continuiamo a trovare degli esseri con gli occhi colorati strani? Immagino che sì. Quella è una pianta nuova. Occhio di Yellow Hug. Frutto rigonfi di polpa matura che cresce sugli arbusti. Diffuso nelle terre afflitti dalla frenesia e rinomato per le sue proprietà lenitive. Purtroppo ha anche per così effetti ineppegnanti. Quella che mi causava pura in mente il rapace mortale era frenesia. Perché era un simbolo che non conoscevo ancora molto bene. E ipotizzavo che essendo comunque una creatura mortale, solitamente in questi giochi qua le creature mortali hanno abilità collegate a farti una grossa quantità di danni appena la barra si è riempita. Ipotizzo che anche lui possa aver fatto una cosa del genere. Oh, oh! Incantesimo stragoneria. E direi incantesimo. Visto che non aveva un bastone. Questo è un villaggio della frenesia? Mi sa di sì. Oh, questo ce l'ha forse in un trailer. Forse mi sa di sì. Potrebbe forse essere questa presente in un trailer di un sacco di tempo fa del gioco. Solo che non avrei mai pensato che potesse essere in questo luogo qua. Sto andando verso di qua perché c'è una chiesa con un sacco di ratti. Battistero di Callu. Ah! Quindi c'è una cosa paragonabile al battesimo? Nella religione dell'albero madre? Dell'ordine aureo? Potrebbe essere? In ogni caso sono qua per... Un incantesimo. Ok, no. Volevo dire sono qua per la lacrima, per potenziarmi le ampolle onestamente. Ahia, ok. Via loro. Non mi hanno preso. Mi hanno dato poi qualche ampolla. Lacrima. Ok, quindi adesso... Quando andiamo in posto del genere ci possiamo aspettare abbastanza con certezza. Una lacrima sacra. Ora che siamo qua comunque... Non credo ci siano molti nemici forti. Quindi vorrei anche controllare questo villaggio. Perché... Oh, aspetta. Sono dimenticato. Proietta dagli occhi una scarca di fiamme gialla della frenesia. Il simbolo là dietro è nuovo. Incantesimo creato dai folli tre dita! What? La fiamma della frenesia infelge danni e provoca accumulo di follia anche nell'esecutore. L'incantesimo efficace è solo contro e senza luce. Le tre dita? Le folli tre dita? Ho sentito bene? Loro li stanno proprio bruciando gli occhi. È per questo che si ritengono mentre siamo distanti. Perché letteralmente gli occhi li stanno bruciando all'interno con questa fiamma della frenesia. Le tre dita? Scudo a mandorla del fuoco. La fiamma gialla simboleggia il morbo e funge da monitor per scoraggiare chi tende ad avvicinarsi al villaggio. Beh, ormai ci siamo avvicinati al villaggio, quindi qua voglio finire ad esplorarlo. Mi sembra molto piccolo comunque come luogo, quindi mi sa che abbiamo visto già la maggior parte delle cose. Ma adesso controllo meglio per vedere se ho mancato qualcosa qua intorno. Solo che non mi sembra ci sono altri edifici, quindi... Forse abbiamo già visto tutto. Ok, ho guardato un pochino qua intorno e mi sembra che gli edifici qua vicino al villaggio... Non ci sia assolutamente nient'altro. Credo che la cosa importante fosse appunto il battistero. Per il resto non mi sembra di riuscire a trovare nient'altro in quest'area. Qua dovremmai essere tornati sia il battistero, perfetto. Battistero di Callu. Anche questo qua è un altro nome che non conosciamo. Chissà se mai avremo una risposta se chi sono tutte queste figure a cui viene dato il nome di queste chiese, battisteri e luoghi simili. Perché ce ne sono già molti che conosciamo, ma nessuno che è mai stato presente in nessun'altra singola descrizione del gioco. Quindi è un po' strana come cosa. Però vediamo, da qua in alto possiamo un pochino vedere meglio anche il resto dell'ambiente. L'albero madre è là sopra. Vediamo qualcos'altro da qua. Rovine. Un ponte che ci porta all'altra parte. Probabilmente adesso andiamo di là. E là in fondo forse un'altra chiesa? Pensati sì. Ok, perfetto. Uh! Una grazia. Ma grazie mille a questa grazia! Prendiamo allora il ponte perché probabilmente è il metodo più veloce anche per raggiungere il castello. E l'albero volevo dire. Solo che come scendo là in basso? Eh, non lo so. Qua prendo danni? No. Buono. Tanto che è quello. Mega onda di veleno. Per adesso mi tengo alla larga da un posto del genere. Salve, te cosa sei? Ah, sei un semi-umano. Sei un capo dei semi-umani. Ma adesso sei da solo. Non c'hai la tua intera arena piena di 50 nemici diversi. Così mi va bene il combattimento. Così è leggermente più facile. Non devo evocare nessuno per combatterti in questo modo qua. Mi troppi qualcosa? Un frammento di rovine. Wow. Potevi darmi le tue armi? Potevi darmi qualsiasi cosa? Un sasso. Attenzione, eh. Non si sa mai che il punte si spacchi improvvisamente. Non sarebbe la prima volta in questo gioco qua che un punte... ...di questo tipo si spacchi. Perché volevo provare a vedere se potevo spaccarlo io e potrei scendere di sotto. Ma per adesso non è il caso. Perché ti cresce addosso? Parte di un albero? Hai una maschera d'oro! Oh, 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 tu fai! Veleno, veleno, veleno. Veleno, veleno. Una maschera d'oro. Forse qua troveremo la maschera d'oro? Uno degli altri senza luce menzionato all'inizio della... ...della cazzo iniziale? Potrebbe essere. Tra l'altro non ha mai smesso di piovere in questa terra qua. Quindi immagino che si chiami terra del pianto, isola del pianto. Perché c'è una pioggia costante. Perché però? Perché c'è una pioggia costante? È semplicemente clima o c'è qualcosa di diverso che causa un clima del genere? Però di qua ci avviciniamo alla chiesa. Quindi forse a questo punto prima controlliamo la chiesa e poi andiamo diretti verso l'albero che ora sicuramente possiamo raggiungere. Prima cosa che facciamo è controlliamo la chiesa qua accanto perché è davvero vicina. E se c'è anche qua una grazia, cosa che molto probabilmente ci potrebbe essere, possiamo forse ottenere un'altra là che massacra. E forse potenziarci ancora le ampolle. Ci sono buone chance almeno a riguardo. Fantasma. Sempre lui, sempre un paesano con questi cose al collo. Che comunque, comunque, mi è voluto da pensare, ripensando a che cosa è quel simbolo che ha un al collo. È un simbolo religioso di radici che si contorcono creando due buchi al centro. E mi viene da pensare appunto a radici dell'albero madre perché venerano l'albero madre. E due buchi perché forse le due dita mettono le dita dentro. I due buchi rappresentano le due dita. Avrebbe senso. Semi dio senza anima. Il mausoleo? Mausoleo è dove c'è Maliket. Oh! Quella non è Marika. E te chi sei? Godwin? Godfrey? Che brutta faccia. Ok, eccoci qua. Posso mostrarlo bene adesso da qua. Quello che è in testa? Ah no, sono capelli. Sono capelli intrecciati in quello che ha dietro? Perché dal basso mi sembrava una faccia. Immagino quindi che non riceveremo un'altra lacrima qua. Avremmo qualcosa di diverso. Comunque una lacrima. Comunque una lacrima. Oh! Millipedi. Quindi è una chiesa per i fondamentalisti dell'ordine aureo? E perché i fondamentalisti non dovrebbero avere una raffigurazione di Maliket ma dovrebbero avere una raffigurazione di lui? E' Godwin? Forse è Godwin. Per questo odiano così tanto la morte. Perché hanno trasformato il loro dio Godwin. Che è importante per i fondamentalisti. Nella morte stessa. Ed è per questo che cacciano la morte. Potrebbe starci. Avrebbe abbastanza senso come cosa. In ogni caso, credo che abbiamo abbastanza lacrime. Pellegrinaggio, eh. Abbiamo abbastanza lacrime per potenziarci le nostre ampulle. Uso una lacrima sacra per aumentare... Ah, sì. Una? Allora, due. Vabbè. Grandi upgrade delle cure oggi. Tanti upgrade delle cure oggi. Vado a chi c'è qua accanto in questo cimitero? E' direttamente collegato accanto al resto. Tu sei scheletri. Scheletri della morte però anche loro. Accanto alla chiesa di fondamentalisti dell'ordine aureo ci sono dei... Personaggi raffiguranti alla morte. Con del grasso sanguinante anche. Strano. Sicuro strano, aspetta. Forse abbiamo trovato il pugnale. Quella è una delle statue del ipotizzo forse sia Maliket. Comunque è un personaggio collegato alla morte. Che indica sempre le catacombe. Indica ogni volta le catacombe. Quindi la mia intuizione era corretta. Probabilmente Fia ci indicava questo luogo qua. Ci diceva di andare verso questo posto. Perché se adesso attiviamo lui... Ci dovrebbe indicare una catacomba che forse ci collega a... Immagino sia tipo là dietro. E al pugnale. Ok però, prima di fare altro voglio comunque prendere anche le lacrime cristallizzate dall'albero madre. Perché potrebbero essere utili per fare del... Salve. Potrebbero essere utili per fare delle ampulle protentose più potenti. O con effetti più utili. Schineri da guardiano è nuovo. Schineri d'oro che recano inciso uno stemma. Indossata dai guardiani degli alberi madre minori. È per questo che hanno un suo po' di legno. Grazie ad un antico patto stretto con l'albero madre... La morte non li condusse a distruzione. Bensì a un'eterna vita consacrata al ruolo di guardiani. Oh. Là c'è un boss. Quindi hanno fatto un patto... Che gli permette di... Rimanere in vita ma sotto forma di guardiani. Strano. Quello è legno. Quello è legno. È il guardiano maggiore? Oh no. Vasi. Sono gli stessi vasi d'Alexandre o sono altri? Non lo so. Sono onestamente pronto al combattimento. Chiunque questo sia... Sono pronta a combatterlo. Potremmo anche utilizzare il cavallo qua eh però... Per adesso. Facciamo questo. Albero madre minore. Avatar dell'albero madre? What the fuck? È una raffigurazione dell'albero madre vera e propria. È l'albero madre che praticamente prende vita qua. Ok. Ampulla mi devo ricordare di prendere la pena del combattimento. Continua a dimenticarmelo purtroppo. Ok. Oh aspetta sì sì sì. Quella energia dell'albero madre. È chiaramente l'energia dell'albero madre. E quindi ho spirito a bordo come si collega al tutto. A questo punto qua non penso più che si colleghi ai draghi. Potrebbe non centrarci nulla. Non lo so. Perché aveva potere sacro anche lo spirito a bordo. Non era un fiamme. Era proprio potere sacro. Sei molto debole eh. Sei molto debole per adesso. Hai fatto poco. Ok però seconda fase. Seconda fase. Oh aspetta aspetta. Dai 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 dai. Ok. Seconda fase. Eh secondo di seconda fase. Di che forma sei fatto? Mi ricordi per qualche motivo. Più che qualsiasi altra cosa. I demoni del rifugio di Dark Souls. Mi ricordi loro più che altro. No. Ah attenzione 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 attenzione. 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 Ok ho preso comunque la zampa di gallina. Quindi ora dobbiamo vincere per forza. Se no l'abbiamo sprecata. Ok. Colpo caricato. Vai cagare. Vai. 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 Ok. Ancora effetto? Sì ancora effetto. No non ha più effetto? Non ho avuto tempo. Non l'ho fatto in tempo a sconfiggerlo. Che la zampa di gallina aveva smesso di fare effetto. No. Forse ho proprio utilizzato appena la boss fette è finita. Forse non prima. Forse è nell'istante in cui finisce. Comunque mi ha dato due lacrime. Cristallizzate nuove. Reduce significativamente i danni. Quindi aumenta la difesa. E. Repristina pv per un periodo. Uh. Questa è una rigenerazione lenta. Era un avatar dell'albero madre. Quindi praticamente. Un albero madre. Che ha preso vita. E ha creato. Un corpo per combattere. Sento di nuovo l'audio delle. Scarabè. Perché ci sono sempre i scarabè vicino all'albero madre. Poi sempre questi. Come mai? C'è un canto. Sento un canto. Chi è? Deve essere qua sopra. Uo là sotto. Si deve essere lei a cantare. Che cacchio sei? Dovrebbe essere aggressiva perché la posso targettare. Sì. E utilizza pure. Ah mi ha belenato addirittura. Porca vacca. Vai. Ok. Porca vacca. La testissima. Runauria sei. Che trancio di carne. Nulla di importante. Era proprio un canto da preghiera. Era un coro clericale praticamente. Non lo so ma. Adesso che abbiamo controllato tutto quello che stavamo aspettando di controllare. Ora. Andiamo verso la catacomba dove dentro. Credo. Credo ci debba essere il pugnale. Perché c'è un simbolo che potrebbe essere la chiesa. E un simbolo che potrebbe essere l'albero madre minore. Potrebbe anche essere qualcos'altro. Eh. Non è detto per nulla. Però. Eh. Non ne sono sicuro in realtà. Non ne sono sicuro. Vabbè. Comunque controlliamo questo punto. Vediamo se ha un nome speciale. Catacombe di guardia sepolcro. Abbiamo abbastanza punti per fare un livello in fede. E quindi lo facciamo. E queste radici qua. Oh. Quello è un occhio. Mi fanno molto pensare a Godwin. Hanno stesso colore. Hanno pure queste setole. Simili a quelle che c'aveva anche addosso Roger. E c'è diversi occhi sopra. In ogni caso vediamo se questo dungeon qua è come gli altri. E quindi. Molto semplice. Oppure se c'è qualcosa di diverso. Funzionano così questi. Se li colpisco si abbassano. E poi posso salirci sopra. Oh mio Dio. Forse è così che c'è. Si raggiunge quella zona che non ho mai. Trovato nella tomba degli acriti. Perché non sapevo che funzionasse così quei cosi. Merda dovevo controllare ogni singola catacomba ora. Porca vacca. Ok trovata la leva. Abbiamo finito il mini dungeon. Ho scoperto questa grande rivelazione che funzionano così. Quei cosi. Non avevo l'idea. Quindi dovevo controllare ogni singolo marchigine di quel tipo. Per vedere se nascondevano qualcosa. Ci vorrei un po' per controllarle tutti. Ma c'è un bosco come al solito sì. Ok dovremmo essere pronti. È pieno di radici eh. Pieno di radici. Do pronto anche l'intruglio portentoso che questa volta utilizzo prima del combattimento. Così possiamo entrare già ben preparati. Umbra cimiteriale. What the fuck? Oh merda. Oh merda. Esci da qui. Esci da qui. No non posso uscire da qua. Non posso uscire da qua. Ok mi ha fatto... Non troppo dai. Non era così tanto grave. È molto un insetto comunque come creatura. Il mio collegare probabilmente Godwin all'insetto non era molto sbagliato. Perché è una creatura molto insettoide. Non riesco a prendere e ti mi continua a scappare. Oh bei danni. Bei danni. Aia aia aia. Però anche lui quando mi colpisce fa bei danni eh. Anche lui quando mi colpisce fa dei danni. Oh. E dai. E dai. Via. Eh che cavolo c'hai... C'hai stabilità infinita. Ma aspettate tu non c'avessi stabilità infinita visto che sei così fragile. Utilizza la gallina. L'utel senza testa. Oh. Non abbiamo ricevuto il pugnale quindi non era questo qua. Resina di radice. Resina di radice aspetta. Sono diverse... Resina di radice. Delle radici del grande albero non dell'albero madre. Le radici del grande albero si intaccevano un tempo con quelle dell'albero madre. O così si dice. Motivo per cui le catacombe sono costruite attorno alle radici del grande albero. È perché hanno sepolto Godwin alle radici. Per questo si intrecciano le radici dei due alberi. Ma dove compare l'albero vero e proprio. E purtroppo questo qua non era il luogo del... Del pugnale. Non era questo quindi. Infatti dalla mappa non mi tornava al 100% che fosse il suo luogo. Non mi tornava. Oh. Prima non c'eravate voi. Forse perché è cambiato l'ora del giorno. Potrebbe essere. Allora vediamo. Mi ha dato la cenere di un'altra creatura... Peculiare come Oleg. Lutel. Ceneri leggendaie. Usate per evocare lo spirito di Lutel senza testa. Questo cavaliere, acefalo, è al comando dei soldati del mausoleo. Del mausoleo. Sky è una lancia spettrale ammantata di morte. Lutel sacrificò la propria vita per continuare a proteggere nella morte un semidio senza anima fino alla sua rinascita. Le fu così concesso una sepoltura con tutti gli onori presso l'albero madre. Un semidio senza anima. Forse Godwin è senza anima. È diventato così proprio perché è senza anima. L'averlo colpito con un pugnale del genere gli ha levato l'anima. E perdere l'anima ti trasformi piano piano in quella creatura ripugnante. In questa direzione qua c'è qualche edificio specifico che vediamo. C'è un'altra chiesa. Oh. Quello è quello che compra sempre nei trailer. È qua. Non credo possa essere quello ma sono corso a me ad avvicinarmi. Facciamo anche una galera eh. Una galera dovrebbe essere almeno un altro boss. Se è un altro cavaliere del crogiolo possiamo forse ottenere un altro incantesimo che in futuro potrei utilizzare. Ah devo pure comprarmi l'altro amuleto per aumentarmi gli slot di armonizzazione. Ora che ci penso. Io quando avevo visto nei primi trailer proprio del gioco. Quando ancora non si sapeva assolutamente nulla di come funzionava Elden Ring. Di cosa potesse essere presente in questa storia. Nulla di simile. Rovine di guardia sepolcro. Ok qua ci sono delle rovine. Pensavo che quello lì fosse l'hub centrale. Dove l'hub gira in giro per il mondo. Si muove per la mappa. E in quell'edificio lì tu puoi andare ovunque praticamente te li trasportano ti. Tra virgolette. Era più che altro un aspettare a lungo fino a che non ti portava in diverse zone della mappa. Ma a questo punto qua chiaramente non può essere così perché il lab centrale è fin troppo grande per essere semplicemente quella cosa lì. Uh questo è un altro mini dungeon. Ora però voglio avvicinarmi di qua. Voi siete senza testa? E questo è il mausoleo? Questo è il mausoleo? E questo è il mausoleo? Ecco cos'è. E come faccio ad entrare? Non potrò attaccarlo vero? Eh no. Oh ma posso spaccare questi? Provo a spaccarglieli. No respawnano. No respawnano. Oh. Mi ho fermato il piede? No. Mi ho fermato il piede. Ma è successo qualcosa. Lo devo fare con tutti. Aspetta. Deve essere questo per forza il mausoleo. Perché è pieno di queste rocce incrostate a modi teschi. Vai. Bam. Le ho spaccate tutte? Sì. Ho ripulito un altro piede. Oddio. Ahia. Ok. Mausoleo raggiunto. Non ho fatto praticamente inciampare la creatura. Si potrà entrare? Sì. Qua il grafo pugnale forse. Tutto spento. Cadavere senza testa. Ci sono sempre queste statue. Vediamo un pochino ovunque. Sono un po' low poly alcune di queste statue. Il menù duplicazione delle membranze consente di duplicare le membranze ottenute? Questo vale anche per le membranze da cui hai già ricevuto poteri. La duplicazione può essere eseguita una sola volta per mausoleo. Ma ci sono diversi mausolei e mausolei può raddoppiare le membranze. Quindi potremmo ottenere entrambe le armi di l'innestato. Bellissima sta cosa. Bellissimo. Bellissima come meccanica. Sono contentissimo che ci sia una roba del genere. Però non possiamo fare molto qua dentro. Cioè non vorrei sprecare il mio mausoleo. Questo mausoleo del gioco. Casomai ce ne saranno tipo 3-4 tutto il gioco. Non ho idea. Per una cosa del genere. Vorrei tenermelo per casomai un'altra... Rimembranza che mi ispira di più rispetto a questa. Non so se scomparirà per sempre. Non credo. Mi sembrerebbe molto strana come cosa. Però... Lo lasciamo qua lui. Non lo utilizziamo per adesso. Chissà se in futuro lo troveremo comunque per terra o se si rialzerà. Potrebbe benissimo rialzarsi. Visto che siamo vicini. Controlliamo anche questa chiesa. E c'è un fantasma. Da sotto ci sono anche delle altre rovine. Ecco la torre. Finalmente posso tornare a casa... Tra i raggi dorati. Forse anche lui è una figura che è stata inviata in qualche missione... Lontano ed è finalmente tornata a casa vedendo la torre. E ne era contenta. Però strano. Non lo so. Non mi convince appieno come cosa. Sono tanti fantasmi. Mi chiedo del... Quarta chiesa di marca. Melina? Mi sa che qua possiamo forse avere un altro dialogo con Melina. Quanto ce ne saranno in totale di chiese di marca specifiche? Abbiamo trovato la terza o la quarta. Quindi ci sono di sicuro altre due. Quelle è ovvio. Ipotizzare a questo punto ce ne sia anche una quinta. E quindi posso portarmi le fiaschette fino al più cinque ora. Beh, non è male. Non è per nulla male. La che è massacra può portarmi le fiaschette al più cinque. Vediamo. No! Questa volta non c'è Melina. Beh. Non avevo raggiunto questo obiettivo. Ma abbiamo fatto molti progressi oggi. Grazie.